bentornati raga e benvenuti perché è nuovo nel canale ragazzi allora oggi vi porto l'after patch raga come volare su gta 5 online funziona su old funziona su next ragazzi potete farlo un po dove volete penso che vadi anche su pc ma ragazzi requisiti serve solo aver fatto il caio almeno una volta e adesso sigla se ti serve un account moddato ti servono aggiunte su xbox o vuoi dei completi moddati non esitare a contattarmi iscriviti a tutti i miei gruppi telegram next gen e all gen e se siete giocatori di playstation trovate in descrizione gruppi anche per playstation ragazzi iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale youtube e adesso al nuovo video allora rega niente di più facile bisogna dirigerci in questo punto della mappa dove si va a caio perico per avviare la festa in spiaggia ragazzi niente di più facile quindi andate in questo punto e andate a caio perico e adesso vi velocizzo la clip intanto ragazzi approfittate aiutatemi a far crescere sto cazzo di canale perché in tanti rega guardate i video e non siete iscritti rega non so se l'avete capito ma l'unico modo per supportarmi è iscriversi al canale e mettere la campanellina ragazzi facendo poi le visualizzazioni e rega se guardate solo i video senza iscrivervi per me non è una cosa positiva comunque sia a questo punto rega non vi resta altro che andare qui dalla gipetta rega farvi mandare un invito da un amico che sta in un'altra sessione e a quel punto appena vedete ragazzi in basso a destra il recupero dovete spammare freccia destra è facilissimo ragazzi a questo punto ci darà l'attenzione ragazzi spammiamo a per accettare e poi spawneremo il lobby ragazzi ovviamente se giocate da play spammate x ragazzi state attenti qua quando spawniamo in lobby saremo staccati da terra come potete vedere vuol dire che il glitch è riuscito alla perfezione mi raccomando non dovete saltare perché se saltate si sbagga il glitch quindi a questo punto ci richiamo in questa zona dove c'è questa rampa e a questo punto sbada bam rega saremo volando su gta 5 online allora questo glitch potete usarlo per rompere i coglioni della gente potete usarlo per abbattere i laser ragazzi perché se un laser sta in aria e voi siete a piedi in aria lui non solo aspetta ci potete sparare con una carabina addirittura e niente rega quindi lasciate un like lasciate un commento supportate xavix condividete i miei video rega per far crescere questo canale e sbada bam buona visione